Di vietro di transito dei mezzi superiori alle 32 tonnellate, ovvero i tir, tra gli svincoli di Enne e Tremonzelli in entrambe le direzioni di marcia, è stato istituito in considerazione del fatto che sono stati affidati, appaltati e ancora non hanno avuto inizio i lavori di risanamento del viadotto Cannatello-Palermo-Catania, dunque nelle more per preservare il viadotto stesso e tutte le strutture presenti prima dell'esecuzione dei lavori, è stato impedito ai tir l'accesso. Il limite di 32 tonnellate fa riferimento al peso effettivo, ovvero la somma di tara e trasportato. I veicoli che saranno soggetti al divieto percorreranno l'autostrada in direzione Catania e dovranno uscire allo svincolo di Tremonzelli per percorrere le strade statali 120, 117, 121 e 117 bis per rientrare in autostrada allo svincolo di Enna. Percorso inverso per i veicoli soggetti al divieto che percorreranno l'autostrada in direzione Palermo.